E noi volevamo essere costruttivi e propositivi e soprattutto risolutivi rispetto ad alcuni problemi. Il fatto che lui abbia imposto al Direttore Generale del Dipartimento di spostare ancora non sappiamo fino a quando, la riunione non significa che noi incontreremo scura, col quale continuiamo a dire che non vogliamo avere a che fare. Non è andata proprio giù alle organizzazioni sindacali il rinvio o quella che è stata definita sconvocazione dell'incontro in programma al Dipartimento Tutela della Salute con il DG Riccardo Fatarella. All'ordine del giorno due punti, il recepimento della Direttiva Europea sul giusto orario di lavoro in sanità e il nodo legato alle assunzioni sulle quali le organizzazioni sindacali hanno chiesto maggiore disciplina. Noi come organizzazioni sindacali diciamo che sostanzialmente si deve rispettare prima la legge e poi rendere la pratica. Bisogna scorrere le graduatorie e se non scorri le graduatorie in dizione di nuovi concorsi non ne puoi fare. Dai sindacati l'annuncio di un'azione eclatante. Nei prossimi giorni insieme ai nostri iscritti e ai nostri lavoratori metteremo tutto il peso della nostra organizzazione per dire che Scura deve andare via. Ed è probabile che la mobilitazione possa svolgersi in concomitanza con l'arrivo del presidente Mattarella atteso a Catanzaro venerdì prossimo. Cristina Iannuzzi per la CNews24.